Un mondo da ricostruire, questa è la cultura in Italia, secondo Silvia Godelli. L'assessora a ramo della Regione Puglia, protagonista del dibattito Lo spettacolo sostenibile nel coloratissimo spazio 1 del Medimex in corso a Bari, fa un'analisi quasi spietata del panorama della cultura e degli spettacoli del vivo nel nostro paese. Un paese in cui le amministrazioni locali con relativi assessori alla cultura durano in media 8 mesi ed ogni volta è un punto a capo con la confusione che ne consegue. Il dibattito, moderato dal giornalista del Corriere del Mezzogiorno, Francesco Mazzotta, ha messo a confronto i vertici delle principali associazioni di categoria, che ogni giorno si misurano con la fatica di dover intercettare le scarse risorse riservate a cultura e spettacolo. La Godelli, da sei anni e mezzo al timone del settore nella Regione Puglia, è riuscita a rastrellare ogni anno 16 milioni di euro dei fondi UE, che tradotto in soldoni vuol dire 4 euro a testa per ogni pugliese. Pochi spiccioli ha detto, ma sufficiente ad invertire la rotta e a fare della Puglia un modello culturale. Ma il grosso problema in Italia, attuonato alla Godelli, è il FUS, il fondo unico per lo spettacolo, sempre più esiguo e sempre più rigido nelle assegnazioni. Ecco perché la Regione Puglia lo ha già rimodulato per riorganizzare i flussi di denaro pubblico in direzione dei giovani. Ogni euro messo nel terreno ha fatto germinare moltissima vitalità. Questo nel campo del teatro, nel campo della musica, della danza, delle arti, della cultura più in generale. Noi siamo ormai circondati da giovani e da grande dinamicità. Basta guardare qui tutti i ragazzi e ragazze, prevalentemente pugliesi. Parliamo appunto di Medimex. Lei ha detto, il nuovo non può camminare se non sale sulle spalle del vecchio e guarda lontano. E' questo lo spirito con cui nasce Medimex? Beh, Medimex è un progetto di fiera per le musiche del Mediterraneo, una fiera. Però l'abbiamo appoggiata ieri sera sulle grandi spalle del più grande cantore italiano e del sud, che è stato Domenico Modugno.